Oggi è una giornata speciale, si festeggia il Wesak. Ma che cos'è? Il Wesak è una festa buddista che si celebra ogni anno durante la luna piena di maggio. Questa festa commemora la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha, avvenute tutte quante durante la luna piena di maggio. Il Buddha morì nell'anno 483 a.C., ma mentre stava per varcare la soglia del Nirvana, si arrestò e si volse a guardare indietro verso gli uomini sofferenti e malati. Provando dal profondo del suo cuore un'enorme compassione, non ebbe il coraggio di proseguire. Così, davanti a tutti i grandi maestri di luce che erano pronti ad accoglierlo, giurò di tornare sulla Terra ogni anno durante la luna piena di maggio, per portare così la sua benedizione a tutta quanta l'umanità e incoraggiarne l'evoluzione spirituale. Questa cerimonia viene celebrata maggiormente nel mondo buddista, e in particolar modo nell'Himalaya, nella valle Uesak, alle pendici del monte Kailash, uno dei luoghi più sacri e magnetici del pianeta Terra. Qui ogni anno migliaia di persone di diverse religioni si riuniscono e pregano per la crescita spirituale degli uomini. Durante la cerimonia sono presenti i grandi maestri ascesi, e il Buddha si manifesta nel suo corpo di luce per circa otto minuti, portando la sua benedizione all'umanità intera e recitando la preghiera che vi lascio qui sotto. Oggi è la giornata giusta per fare grandi ricordi.